Ciao a tutti e bentrovati a TCG Television. Oggi abbiamo una busta a sorpresa riguardante Pokémon Telecard Game da aprire. Direi di non perdere troppo tempo e iniziare subito. È tosta, è tosta, no, no il cielo fa no. Un bel toccone. Tengo girato perché se no si vede subito la più grossa. La faccio... Te l'ho fatta. Pallamontesi. Iniziamo col primo blocco. Poliwang, Omanite, Meryl, Mantin, Crabby, Orsi, Corsola, Suduodo, Raiorn, Pampi, Onyx, Monkey, Daratini, Dansparse, Eve, Utut, Iggliboth, Mew, Polygon, Hitmochan, Gligar, Geodude, Cubone. Secondo blocco. Rattata. Stuntler. Wishmore. Whippingball. Suncarn. Pineco. Pineco. Paras. Oddish. Nidoran. Lediba. Lediba. Lediba ancora. Grimer. Goldbot. Execute. Executor. Machop. Lavitar. Kabuto. Casta. Adestriamento. 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 Totodile. Timpole. Swinab. Seal. Remorade. Quagsire. Oddishami. Orge. Un doele. Medicare. Un願agi. Un doele. Sp twists and panoram sitter. Anon, Nato, Jinx, Anon, Gastly, Gastly, Exegyu, Tabra, Marep, Pikachu, Marep, Cinchu, Slugma, Vulpix di Brock, Cicorita, Butterfree, un po' di strutto e Bellsprout. Poi diamo queste. addestramento, 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 addestramento ad eserimento. Sindakil, Charmandare, Growlit, Ponita e Ponita. Infine ci sono Facciamo così, qua, Tepistibo e Brian Holo, c'è altro dentro, Eevee Holo, Castform Holo, abbiamo un Coffing, Holo, Zubat, Fico, questo è Reverse, credo, e Vaporeon, Molto Fico, Arcanine, Raro, Otot e Scuratigli, poi abbiamo un Envigo Scuro, Bagon e Sharpedo. E infine... Victini X. Turbo Energize, Non è male, non è male. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio e al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.